Adriana Pusello, vicepresidente della consulta provinciale studentesca, anche per quest'anno sei impegnata ad organizzare la giornata dell'arte per coinvolgere tutti i giovani siracusani. Nuova location, rivalutazione anche degli spazi, ma soprattutto cosa accadrà? Allora, domani la giornata dell'arte sarà totalmente incentrata sui ragazzi, sulla gioia, è il connubio tra arte e unità tra gli studenti. Sarà al Parco Robinson dalle ore 9 fino alle 7 di sera e tutto sarà incentrato sulla musica, sulla danza, ci saranno contesti di ballo, contesti di canto, rivalutazione degli spazi, saranno pitturati gli spazi interni del Parco Robinson con dei graffiti in modo che l'arte riesca anche a essere vista e percepita anche dopo questa giornata, perché il nostro obiettivo è non fermarci alla giornata ma cercare sempre di più di portare l'arte e la comunicazione all'interno del cuore e dell'anima dei ragazzi, quindi sarà una giornata molto partecipata. Ci saranno tutte le scuole superiori di Siracusa, i presidi sono stati molto disponibili, i ragazzi stanno lavorando tanto, tutta la consulta si sta veramente facendo in quattro per cercare di rendere questa giornata il migliore possibile. Come vediamo dalle immagini stanno già allestendo il palco, cosa accadrà su questo palco? Su questo palco abbiamo il piacere di essere aiutati dai ragazzi della Time to Party, un'organizzazione eventi che ci permetterà di avere un grandissimo service, grandissimo audio per la giornata, musica live, ragazzi che verranno da Ragusa per cantare con noi, ci sarà un LED wall che è un muro dove delle luci verranno proiettate in maniera assolutamente particolare e innovativa, quindi ci sarà il live, la verità, i ragazzi che si esprimeranno nel miglior modo possibile e poi la tecnologia e l'arte trasmessa nella maniera più nuova possibile. Nelle altre edizioni della giornata dell'arte spesso i ragazzi sono tornati a casa completamente pitturati dalla testa ai piedi. Sì, questa è una parte caratteristica della nostra giornata dell'arte, i ragazzi avranno la possibilità di portare dei colori assolutamente poco conoscivi appunto per la pelle e potranno pitturarsi. La mia maglietta in questo momento è anche un esempio di quello che è successo negli anni passati, proprio perché tutti noi, anche noi organizzatori, ci facciamo prendere dalla bellezza e dalla gioia di questo momento in cui i colori sono al centro della giornata dell'arte, tutti pitturati. L'anno scorso, a livello di partecipanti, che numero puoi darci? Allora, gli anni passati possiamo pensare a 2.000-3.000 partecipanti, quest'anno, dato che stiamo facendo anche degli autobus che arrivano dalla provincia di Siracusa, i ragazzi saranno circa 5.000, quindi abbiamo una forte partecipazione. Quindi vi aspettiamo domani alle ore 9 al Parco Robin, sono in tantissimi e preparatevi ad avere tanta gioia e tanta musica. Grazie a tutti, grazie a tutti!